E oggi siamo in Piazza Medaglie d'Oro, amici di Ciocomo, vicino a me il Museo Archeologico Giovio che ospitò negli anni l'omonima famiglia, infatti era la casa della famiglia Giovio, oggi Museo Archeologico. Come dicevamo, reperti storici all'interno, mentre al piano terra, in Palazzo Olginati, la Como romana, quindi i comaschi ma anche i turisti che verranno a visitare e il museo potranno trovare la storia di Como negli anni passati. Sempre in Piazza Medaglie d'Oro anche la casa che ospitò Giuseppe Garibaldi, oggi omonimo museo e anche in Piazza Medaglie d'Oro possiamo trovare il Teatro La Lucernetta. Foriera di buone notizie e bel tempo garantito fino al 17-18 di marzo grazie all'anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo che domenica anche a Como porterà temperature in aumento attorno ai 19 gradi, poi qualche incursione delle perturbazioni atlantiche, ma niente paura per il momento, la stabilità è garantita. Buttate dunque i fiumini. Ci troviamo anche quest'oggi all'interno del Museo Giovio di Como per il proverbio della settimana. Sono in compagnia di Mara che ha qualcosa da raccontarci. Magna, magnotum, borbuta, lavorà, borbotum. Che vuol dire? Mangiare si mangia finché c'è da mangiare, ma quando c'è da lavorare si borbotta. Bravissima Mara, ci ha fatto anche l'interpretazione. Allora anche per questa settimana il meteo tra proverbi e storia termina qui. Appunto avete per settimana prossima. Seguitici su Twitter oppure su ciabobbo.it. Ciao! Purtroppo arriveranno probabilmente alcune incursioni del... Ce la faccio... Fra, ce la posso fare, ce la posso fare. Il marzo poi qualche incursione dell'anticiclone... No! Ma tanto c'era l'elicottero!